Ben trovato consigliere Greco, grazie per il suo tempo, lei voleva intervenire sull'ospedale Caracciolo di Agnone, perché? Sì, innanzitutto grazie a voi per dedicarmi questo spazio, per darmi questa possibilità, perché io sono tanti giorni che ascolto i direttori di ASEM, che ascolto i vertici regionali dire che non ci sono medici a disposizione, questa in alcuni passaggi risulta un'assoluta falsità, in quanto ci sono addirittura dei concorsi già espletati, già finalizzati, con dei vincitori, con delle procedure che si sono chiuse l'11-3, quindi voglio dire ormai un mese fa, e i medici ancora non vengono assunti. Parlo dei medici che sono risultati vincitori per il concorso di medicina di Agnone. Ora, che succede? In queste ore proprio stanno disponendo il trasferimento dei due pazienti che sono attualmente ricoverati presso la medicina, per poi a quanto pare vogliono decretarne la chiusura. Chiudere medicina significherebbe chiudere il caracciolo. Questo è un fatto inaccettabile in un momento come questo, momento in cui l'ASREM poi sottoscrive invece degli accordi con i privati convenzionati per far svolgere proprio le mansioni di medicina. Quindi, chiaramente io la nota, ieri ho inviato una diffida ad ASREM e l'ho inviata anche alla procura regionale della Corte dei Conti. Questi medici, insieme ad altri medici, perché ricordiamo, oltre a queste procedure, queste erano quelle ordinarie. Poi ci sono tutte quelle straordinarie, quindi i medici in pensione, gli OSS, gli infermieri e molti di loro ci hanno contattato dicendo guardate, noi abbiamo dato la disponibilità, ma l'ASREM non ci ha risposto. Uno su tutti, voglio fare il nome, il dottor Giovanni Di Nucci di Agnone, che sapete è stato, ha diretto il reparto di medicina di Agnone per tanti anni, ha mandato una raccomandata ad ASREM con il bando che aveva pubblicato ASREM per mettersi a disposizione in questo momento di estrema emergenza. E ad oggi, dopo 18 giorni dall'invio di questa raccomandata, non è stato richiamato. Quindi io mi chiedo qual è la verità. La verità è quella che ci racconta ASREM che non si trovano i medici o piuttosto che non si mandano avanti le procedure già finalizzate. Dai documenti, dai riscontri documentali, purtroppo la verità è che non si contrattualizzano queste persone. Dei tre medici vincitori ad Agnone, io so che solo uno ha rinunciato, mentre altri due, il dottor D'Agostino e l'altra dottoressa, invece vogliono venire a lavorare. Quindi mi chiedo perché si stanno perdendo ore preziose, ore che non ci possiamo permettere in un momento così. Poi mi permetta, se posso approfittare della gentilezza e della disponibilità. In questo momento io ho parlato anche con gli infermieri, ho parlato con gli operatori, ho detto guardate ma perché? Ma se vi chiedono di spostarvi in qualche modo, di andare a dare sollievo alle persone, per esempio, manforte a chi oggi sta a Venafro ad accudire i nostri nonni, sareste disposti a farlo? Loro hanno detto naturalmente sì, noi siamo degli infermieri, questa è la nostra professione, però ci devono dare i dispositivi di protezione individuale adeguati per fronteggiare la situazione. Non si può pensare che si mandano degli OS alla prima esperienza, piuttosto che degli infermieri con delle mascherine chirurgiche, a fronteggiare dei casi Covid perché sarebbe una follia. Questo è il problema. Lei Greco ha chiesto su questo argomento, ha chiesto un incontro con Florenzano o anche con il generale Giustini, che ripetiamo è stato indicato dal vostro governo. Ecco, lei ha, oltre che protestare... Il generale Giustini ha sottoscritto, perché lui poi deve sottoscrivere tutte queste fasi, e aveva dato già l'autorizzazione a procedere con questi concorsi già da tempo. Tant'è che ieri sera poi appena ho inviato la diffida a mezzo PEC a tutti quanti, quindi anche ai commissari, a lui gliel'ho girata anche per le vie brevi. Ha detto, guarda, questa è una realtà diversa da quella che mi rappresentano. Quindi, cioè, qui bisogna capire un attimo che cosa sta succedendo in queste ore, perché io, a questo punto, come cittadino, prima che come rappresentante all'interno delle istituzioni, voglio capire esattamente cosa sta accadendo. Bene, consigliere Greco, io la ringrazio per il suo tempo e le auguro buon lavoro. Grazie per avermi dato voce in questo momento molto delicato. Sono convinto che ne usciremo e ne usciremo per la straordinaria diligenza dei cittadini molisani. Grazie.